Una risposta all'emergenza abitative del territorio a Benevento con la consegna delle chiavi di casa e titolari di 20 alloggi di edilizia popolare realizzati in località Capodimonte dall'ACER, l'agenzia campana per l'edilizia residenziale presieduta da David Lebro. Noi continuiamo, secondo l'indirizzo che ci ha dato il Presidente De Luca, principalmente di sviluppare l'edilizia residenziale, quindi di consegnare nuove case. Dove è possibile? O attraverso la rigenerazione urbana o qui come nuova costruzione, in questo caso sono gli ultimi piani che sono stati trasformati in appartamento, noi riusciamo a dare 20 alloggi secondo canoni di altissimo livello. Nel senso che queste case saranno ben riscaldate anche con nuove tecnologie, quindi fotovoltaico, pompe di calore e sono molto rifinite. Questo è un aspetto positivo, c'è un'inversione di tendenza che la casa popolare non deve essere una casa brutta, deve essere una casa bella e da poter utilizzare, fruita bene da una famiglia. Alla cerimonia di consegna che segue di pochi mesi un'altra relativa a 54 alloggi nella stessa area, anche il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Una cosa che fornisce case e abitazioni a famiglie che stavano in alloggi precari, non avevano casa, occupavano in maniera abusiva a volte anche appartamenti di altri. E poi ho anche detto oggi, ma l'abbiamo comunicato ufficialmente i giorni scorsi, che il Comune ha partecipato ad un bando, e sono grato ai miei tecnici e all'assessorato della chiusolo, per 5 milioni che abbiamo avuto, siamo arrivati i secondi in Campania, dove il Comune di Pozzuoli, che ha qualche problema in più di noi, e per 26 appartamenti che determineremo, qui sarà a vantaggio delle famiglie beneventane, e questo avverrà in un spazio di un paio d'anni. Emozionatissima, non sembra però, diciamo che non sto capendo niente in questo istante. È un'emozione indescrivibile, l'attesa che abbiamo avuto, poi le delusioni, un giorno, un altro giorno, finalmente siamo qua. Grazie a tutti.